Cari amici giuristi, sicuramente in questo momento sarete immersi tra i vostri detestati libri chi ha le prese col diritto privato, chi col commerciale, chi col diritto internazionale e chi, come me, col diritto costituzionale. E quale modo migliore, amici miei, di imparare se non prendere una chitarra e cominciare a cantare? Le Camere nel nostro ordinamento formano il cosiddetto Parlamento la cui funzione prima è la legislativa e altre invece a natura relativa ci sono quelle connesse alla forma di Stato, sarebbero la legge inchiesta in tutto e addio al reato le inchieste poi le fanno delle commissioni, cioè gruppi parlamentari mica dei coglioni le altre dipendenti dalla forma di governo si basano sul controllo del lavoro del governo l'interrogazione, l'interpellanza e la mozione e in line dei bilanci la presentazione lo Stato come soggetto internazionale si adatta all'Europa e alle limitazioni delibera la guerra in alcune situazioni, autorizza la ratifica dei trattati ma nonostante questo l'euro ci ha inculati e poi quelle connesse con il tipo di Stato per sciogliere il consiglio regionale se ha variato ci sono quelle connesse con l'autonomia ma non le chiederanno parola mia la 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 costituzione la 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 costituzione la 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 costituzione mi ha proprio rotto il cazzo voglio la rivoluzione la 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 costituzione la 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 costituzione la 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 costituzione mi ha proprio rotto il cazzo voglio la rivoluzione grazie